...dalle celli, dal fango, è uscito da una pozza di fango, da un... E niente, è sempre così potente, sempre così inarrestabile. Lui è qui. E' stato Gino, 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 sempre Gino, è stato Gino. E noi a Gino lo vediamo, lo vediamo, si, 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 lo vediamo, noi a Gino lo vediamo, è la stessa. Chi è da 4, 3, 3, sempre Gino, quello che fa andare, Gino, 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 è stato Gino. E noi a Gino lo vediamo, lo vediamo, si, 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 lo vediamo, noi a Gino lo vediamo. Chi è da 4, 3, sempre Gino, non è stato Gino, non è stato Gino, non può essere stato Gino. Ma perché? Ma Gino è morto. È morto? No! Gino è morto. O è vero, non lo so. E che è stato allora, Pai? Beh, è un Mario, Giro, Giro, è un certo Mario. Mario. E che è? Ma non lo so. Io non lo conosco, me ne frega cazzi. E non è Mario, lo vediamo. Lo vediamo, lo vediamo. Si, 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 lo vediamo. Noi e Mario, lo vediamo. Dove stai nella sua stanza. E che è stato fatto? Ciao, ciao. Poglio presentare un fisico? Fammi un apri. No, fammi. E prendete. al basso Marco dove vai? sto presentando al basso English Bass ha detto Marco che c'è? Mario hai detto al basso Mario no ho detto al basso Mario al basso Mario Mario Venamo lui non è Mario lui è Marco Mario no lui è Marco lo pronunci male Mario no lui è amico nostro lui sono con noi l'ha preso derivati quella la pronuncio dopo la botte la botte no 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 allora guarda noi siamo amici l'ha preso derivati amici noi spenuiamo insieme ma lui è lui è Marco Mario noi amici noi stesso autore noi uguali capito? stesso autore non è bene annusalo faccio sentire senti noi uguali stesso autore senti senti come si spiega si spiega perché siamo uguali abbiamo tutti lo stesso autore siamo fratelli tutti uguali ok? noi la stessa facciamo parte di un'appenna siamo tutti uguali amici senti 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 lui senti lui uguali amici stesso autore senti stesso autore senti tu hai ragione tu hai ragione senti eh ti senti a me passa quella cosa noi uguali noi amici noi uguali ok? no quella non è amicizia siamo uguali stesso autore aspetta ci ammazzi le pelle che è questo? siamo stesso autore non è vero sì come c'è se questa è amicizia quella è proprio amore sconfinato amore c'è da mandato già arriva su altri pianeti questa infatti l'amicizia di quanto trasformare in amore c'è amicizia di quello pianeta questo tipo non è stesso autore ok? lui è Mario prova a pronunciare guarda Marco provami Mar Mar no Mar Mar ok Co dai che ce la fai dai non mi riesco a concentrarlo con l'occhiapriti non ci riesco ma come si fa con la mano così non si può ma come non si può fai così ecco qua ecco vedi ecco vedi che ce la fai è pure furbo stavolta Marco dai Mario no Mar ci sei Co Co Mar dai dillo intero Mark dai Giafano dai Mark O dai O no attacca attacca la O Mark Mark Cazzo di nome Mario Mario subito dai Marco 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 e noi a Marco lo vediamo io lo vediamo lo vediamo sì 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 lo vediamo noi Marco lo vediamo sta 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 la chitarra a Fabio Fabio lo stanteo Fabio lo vediamo alla batteria Paolo lo vediamo lo vediamo al basco Marco Inge Schwarz comunque siamo a il destiere te lo forte a dire di Giovanni alla mia destra Greg sei tu Greg sei tu no sei tu Mario non lo so Mario vuol dire Cino Marco no c'è tu no c'est c'est il te di la c'est la c'est c'est l' c'est il c'est